Ciao a tutti ragazzi, io sono mamma Elena e io sono Erika e quella è la mia sorellina Vanessa Indovinate dove siamo? Vi abbiamo parlato tantissimo nei scorsi video Se l'avete indovinato scrivetelo giù nei commenti, vogliamo vedere tutti i vostri commenti Adesso ragazzi si mangia, tu hai freddo Ecco, guardate questa bellissima pigiama di Vanessa, la pigiama bianca con tanti cuoricini Guardate, qui ci sono due cuoricini Sì, e qua c'è una stellina, c'è qua, c'è cosa c'è qua? Mamma mia, è bellissima E guardate un bacino Un bacino, kiss me Tanti cuoricini e tanti tanti bacini Qui c'è il mio giocattolo Ecco E qui ci sono due merendini buonissime Mamma mia, li mettiamo qua sopra Vanessa resta più in là E c'è un'altra La mettiamo qua, ecco E c'è un'altra Abbiamo preparato anche i toast, lo sai, questa mattina io con papà Ho i biscottini Anche i biscottini Anche un'altra merendina C'è il toast Questo è il nostro primo giorno al mare in Sardegna Finalmente, è arrivato questo giorno Buona tessita Mamma mia, perché ho un po' di caffè? Sì, un po' di caffè per me, grazie Ok Per le bambine il tè Se no mi sbaglio è ancora caldo, sai Io voglio il caffè Ecco Dopo ci cambiamo Prenderemo il costume E guardate il panorama Il mare L'ombrelone qua sopra E si mangia E il tè, vediamo? È caldo, vero? Erika? Il tè è ancora bollente Fate attenzione però Ah sì? Eh sì Fate attenzione che arrivano Le veste Eccola Eccola Vai via Vai via veste Vai via Ragazzi, dopo cosa si fa? Il bagnetto Si fa il bagnetto E questo? Vanessa Tu ancora stai dormendo? Tu ancora stai dormendo, poverina Le abbiamo preso, le abbiamo messe in macchina Mentre dormivano Cioè praticamente Erika si è svegliata Invece la Vanessa è quella che gli piace il sonno Guardate ragazzi che panorama Sta uscendo il sole Qua Mangiamo È bellissimo Aspetta, aspetta che guarda la Vanessa Preparati Dai Più forte Così Brava Felicita Bravissima Vai 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 Erika Dai prima finisci Panesa Cosa stai facendo? Fai un video a Erika Dov'Erika? Eccola Vediamo che forza Oh oh Brava Io voglio correre Ecco Papino Preparati Giochiamo a calcio in pigiama Ecco Ci dobbiamo cambiare Lo sai? Questa pigiama Tra poco diventerà tutta grigia Ecco E oh La potete prendere? La potete prendere? La potete prendere? Oh no Cosa avete fatto? Siamo cadute Non fa niente Cosa stai facendo Vanessa? La nuova pigiama Cosa hai fatto? Girati Girati Ecco Tutta di sabbia Dappertutto E tu? Ma cosa stai combinando ragazze? Ehi Marciatini Marciatini Venite qua Venite qua Ma se li prendo Se li prendo Valesa Ti mangio Tutta 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 bene Mor 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 Sei caduta Sei caduta Hai tutti i capelli di sabbia Na 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 Ecco Tutta tutta di sabbia E anche io Anche io sono tutta di sabbia Hai visto? Guardate il mio costume Vediamo il tuo costume E anche quello di Vanessa Fammi un girettino Un girettino Un girettino Ecco brava Allora Riccardo Ma tu hai detto Hai un fiocco Hai visto? Fammi vedere Eccolo È carino Andiamo In acqua Sì Cosa mi dici? Andiamo a mettere Ma c'è un cagnolino Che sta pulendo Vorrete anche voi un cagnolino Così piccolino Sì Ma chi lo porterà fuori? Io Tu E chi gli darà da mangiare? Io Tutto tu? Sì E chi pulirà lo so Pappà Vanessa Prendi Lancia qui Vai Lanciala Non ti ha vista Non ti ha vista Lanciala subito Vanessa Lanciala Devi lanciare di nuovo Ancora una volta Vai a vedere E poi la lancia Mi piace troppo l'acqua Ecco La vista Ecco la vista La pallina Si fa anche Qui e bacca Stiamo su un coso alto O su l'acqua Veramente si diverte E' molto attivo Quando fai tutto di uno La volete? Ecco Ma sì Cosa stai facendo? Porta la panna Ecco Ecco Hai paura Varese? No Ma non ti devi avere paura Ecco la pallina Ricerca la pallina Si c'è meno gente E' bellissimo I bambini Volano tanto Un cagnolino Così piccolino Un gattino Andiamo a fare i tuffi E anche la Vanessa Sai dopo? Ecco C'è tanta sabbia là Sabbia Dai papino Ci riesci Dai Sì sì Dai Dobbiamo dire Papina 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 Ecco Ce l'ho fatta Ecco Vediamo E' stretto E' troppo stretto Ma vedrai che così No Non voglio Mettiamo anche questo bracciolo Ecco gli arancioni Guarda Ti vedrò da lontano Con i braccioli arancioni No L'hai messo male E come male? E' stretto E devono essere strati Ecco C'hai muscoli grandi E' fatto Oh Sei così forte Ecco Fatta Adesso La Vanessa E li devo gonfiare io Eh sì Cioè li devo gonfiare io Prego No Dai 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 Così vedrai com'è Sì Grazie Avrai più gusto Gusto salato Avrai gusto Di braccioli Papina Mi sta facendo scherzi Adesso A me E' perché c'è la sabbia Buongiorno ragazzi Quindi Quindi si sono salati Ma non fa niente Ti va avanti Avanti Capodità Prova Avanti 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 Erika Entra Ecco E' l'acqua ragazzi C'è L'acqua Dice tutto Uno Due Tre E dove va Larica Eccola Si sente delle onde di mare Qui sotto Vai Vai da papà Bravissima amore Bravissima Hai visto i pesciolini Sotto Ecco Con i piedi Brava Così Adesso Vieni sotto acqua Dai Ti salut Sì Ti salut Ti salutate Sotto acqua Voi che ti salutiamo Sotto acqua Sì Va bene Dai Si salutano Sotto acqua Così Sì Brava Ma è brava Così Ma come Così Ah così Ehi Adesso andiamo Cinque Bravi Bravissimi Così papà Ecco Vai attenzione Amore Cristian Ecco Quello è Cristian Mirka Vieni sotto acqua Fino da mia Dai Ci riesce Dai Ci riesce Ecco Ma brava Bravissima Ho visto un pesce Bravissima Due pesci dopo Due pesciolini Cristian Hai visto i pesciolini Ecco Che colore Lui è bravissima Amo azzurro un pochino con blu Azzurro con blu Sì Wow Un pochino con grigio Un pochino con grigio Che bravo Guardatelo 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 Mamma mia Hai visto Erika Bravo 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 Dai ma sei bravissima Erika Sta arrivando la vanessa Ecco Avete visto la vanessa Guardate Guardate Senta braccioli Brava bravo amore Brava Brava Erika Bravissima Erika Fai vedere a vanessa come fa il tuffo No Non vuoi Non vuoi No Vanessa Entriamo dentro Ha freddo la vanessa C'è tanto vento Vanessa Entriamo dentro Dai Entra amore Dai E tu nuoti Dai Nuota amore Nuota Ma cos'hai in mano? Cicciolino Cicciolino Famelo vedere Ecco Il pesciolino Cosa sta facendo la Erika? Wow Cosa stai facendo? Non fare Venite qua ragazzi Vediamo Vediamo Wow Ancora Ecco la vanessa è la Cristian è qua sotto Erika sta facendo i tuffi Dammi la manina amore Dammi la manina 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 No Ecco Vanessa Sulla schiena Sulla schiena No dammi gli occhiali un pochino Aspetta Aspetta Chiudo Chiudo bene Tranquilla 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 Vedi controllare I movimenti che li stai facendo Dammi Freddo Hai freddo Guardate papà Ecco gli occhiali Ecco papina Ti abbiamo visto papi Tu stiamo vedendo pesca E anche Cristian sta facendo i tuffi Vuole pescare Vuole pescare Vuole pescare Con le mani Sì 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 Prego amore Giretina 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 Brava Di nuovo un giretino Ecco Brava Adesso andiamo Adesso andiamo Sì Cosa stai facendo? La torta La torta E anche per la mamma E per papino? Sì Anche per papino Dobbiamo fare l'impasto per prima giusto? Mettiamo tutto qua dentro Mettiamo tutto qua dentro Ecco Metti le candele No? Sì Dai Ecco fatto Sono le candele E tu Erika fai successo Cosa non è pronto? Una sorpresa papà Ecco Lo sta arrivando Sta arrivando papino Vuoi preparare un altro? Un altro Ecco Un altro Ecco Eccolo Ciao 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 Pentaacoli E' te Mami E' catt'ati Pentaacoli E' te E' E' anche tu E' anche tu E' anche io E' anche papà E' anche papà Ecco Sofiatto oggi è mio compleanno, oggi andiamo al ristorante eh si ragazzi questa sera si va a mangiare al ristorante io sono piccola che voglio vedere piccola devo mettere un desiderio? e io voglio vedere piccola che sono piccola non devi dire il tuo desiderio bravo Erika ma invece tu? ti hai messo un desiderio? si è brava, anche io e lo dici? cosa vuoi? un gattino piccolo ecco papino un gattino invece tu Vanessa tu cosa vuoi? un cagnolino quello che vede quando fa così invece la Vanessa vuole un cagnolino che carino vedremo ragazze vedremo quando sarà il mio compleanno forse vedremo quando avrai sei anni quando avrai sei anni questo significa il prossimo anno desideri un gattino? non lo so quando quando stariamo in Mondova con la mia nonna e con la mia nonna e voi e voi starate a casa quella vecchia dove 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 scongeranno la casa e farà i riparazzi in casa eh si ragazzi il prossimo anno speriamo incrociamo le dita vogliamo ristrutturare la nostra casa ma non si ancora ce le dite più perché si fanno strotte eh si Erika quando andrai in Moldavia la tua nonna e il tuo nonno ti prenderanno un gattino e anche un cagnolino e giocherai per due o tre mesi con loro perché allora sai cosa? una vicina che ce l'ha la nonna si ha due cagnolini si ha due cagnolini piccoli che si chiama una stula e una bing ah si ecco la Vanessa sta cantando basta basta pulisci di papà asciugati asciugati e tu cosa fai? ma io ti propongo una cosa cosa mi dici di fare? una formina una stampa ci stampa formina non so cosa posso fare allora io va scaviamo un buco grande e andiamo dentro si possiamo provare con i piedi con i piedi vuoi entrare qua si eh si dobbiamo scavare grande profondo ecco erica puoi prendere la sabbia che c'è qua io vi aiuto mamma mia è pesante è pesante si perché la sabbia è bagnata allora a che punto siamo qui? abbiamo tanto ancora ecco ecco c'è tanto lavoro c'è tanto veramente c'è tanto ma ce la facciamo la sabbia è più bagnata sotto un altro guarda guarda mamma guardate su sei stanca? si tutte e due un po' d'acqua si grazie papino tu dovrai avere cura di noi si prima vado alla lissa e dopo vado io eh ma dovete allargarlo un po' eh dai è troppo sotto questo buco dici? si e la sabbia è più pesante perché è più bagnata qua se troverete un tesoro eh eh sarebbe meglio si cosa può essere qua? le caramelle no no non so un tesoro con le caramelle? no monete d'oro monete d'oro? si è tutto bagnato Vanessa pronta? vai Vanessa la prova adesso resta in piedi perché cominciamo a coprirti con tutta le mani su le mani su ecco ti copriamo ma questo non va bene no quello non va bene ecco tieni le mani su perché ti copriamo tutta aspetta Vanessa aspetta adesso dobbiamo fare come un bebe sei come un bebe piccolino ma io faccio qua da dietro e tu fai da l'avanti va bene si preparati Vanessa perché di qua farai fatica ad uscire dai dai ancora 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 ma certo coprite bene coprite bene guarda sta tirando anche Vanessa sta aiutando ti stai aiutando amore ancora di più di più cosa hai detto fino qua fino qua va bene ma dobbiamo tirare ancora più sabbia ecco ecco di qua tira di qua aspetta aspetta rimani così Vanessa faremo tira 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 così ecco avete buttato la sabbia troppo lontano dal buco eh sì si sei sparita e dov'è la Vanessa che non c'è più Vanessa dove sono i piedi di Vanessa non lo sappiamo Mr. Zag Mr. Zag ha preso i piedi sì di là sotto sì ecco è una torta è un'altra torta Vanessa fra poco uscirà Erika Erika alzati in piedi guardate che piccola è Vanessa attenzione prova ad uscire Vanessa dai lo lasciamo da sola proviamo prova prova ad uscire wow ma ce l'hai fatta eh allora il buco dovrà essere fatto più profondo ragazze andiamo a fare un bagnetto e dopo mangiamo un po' di frutta e dopo si va a casa a preparare la pasta cosa ne dite? sì perché è arrivata l'ora di mangiare buon appetito ragazze buon appetito buon appetito Vanessa tutto bene? e dopo andiamo in istorante guardiamo più tardi ecco non siamo riusciti a riprendere niente perché mentre giocavano le bambine Vanessa è caduta giù si è fatta male fammi vedere due volte due volte ecco qui e qua no non toccare con la bua di Vanessa poverina si è fatto tanto male e aveva pianto ancora più forte del mondo ha pianto tanto perché veramente ha fatto tanto male e Vanessa se ti fa male metti il ghiaccio ecco c'è il ghiaccio qua va bene? sì e io non l'ho fatta ma tu non l'hai fatta sì perché eri lì con Vanessa era fatta fuori a fare i casini eh non è che fanno i casini erano lì a giocare e dopo è successo quello che è successo era vicino a Vanessa a consularla a star lì vicino perché piangeva poverina niente passa tutto è buona la pasta sì mi piace papino con cosa hai fatto la pasta? neanche non so con cosa ha fatto pasta con pomodoro e basilico wow hai messo anche tonno? al pomodoro ah il pomodoro hai messo anche tonno? mmm sì poco che bontà poco 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 è buona Vanessa ti piace? a me no hai messo anche un po' di cipolla papà e a me no è poco hai messo anche un po' di cipolla papà quella dolce quella è tropea la cipolla è tropea sì erica piccola piccola se è sciolto praticamente neanche non lo vedete io lo vedo dove lo vedi? non c'è? non c'è ah l'hai trovato bravi smalti è dolce però Memo è dolce guarda è vero che è dolce? ragazzi se mangiate tutto dopo potrete bere il succo eh io anch'io sono uguali sono uguali eh no 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 prima si mangia dopo il succo guardate dai dai ci mangio anch'io un po' di va bene? e dopo si va a riposare si fa il riposino di pomeriggio si 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 tutte e due no perché alla sera siete troppo stanche a dopo ci vediamo fa poco a dopo fendiamo a dopo ciao ciao ragazze ma siete così belle dove si va adesso? è un istorante e io voglio una sedia piccola con la latta bianca vuoi la sedia piccolina? è ancora piccolina amore e con la latta bianca va bene mi fai vedere il tuo vestito amore? ecco mamma mia sei così bella e anche il vestito di Erika guardate wow si bellissima amore questo vestito ve l'abbiamo fatto vedere nel video dove abbiamo fatto le valigie per la nostra vacanza giù lascerò il link con il video ok cosa vorresti mangiare? la pizza con la mozzarella ecco tutta la famiglia qua in macchina si parte perché oggi si va da un ristorante dove la specialità sono le cozze non vediamo l'ora veramente oggi è stato un giorno molto molto lungo perché ci siamo svelati presto siamo stati al mare dopo siamo stati a casa abbiamo mangiato abbiamo fatto il riposino di nuovo al mare adesso si va al ristorante ecco siamo qua Erika cosa stai facendo? sto sistemando le bocconcini volete bocconcini di pesce fanni? fischi e patate e patatine e patatine patatine insomma patatine con pesce patatine con pesce no patatine con pesce di questi qua così fanni per bambini si no voglio i patatini quello con ketchup e neso e dopo voglio anche quello con pesce quello rotondo cosa vuoi Vanessa? io anche io voglio patatine con ketchup patatine con ketchup patatine con ketchup ma sei sicura? sicurissima sicurissima ecco allora intanto dobbiamo prendere un antipasto va bene? eeeh 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 ha la forma hai visto? aspetta aspetta che devi portare un altro chiamo ecco fanni 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 con patatine sì con patatine ti piace ma erica? come sembrano buone il pesce com'è? qua danno la forma d'olio la forma di stella l'ho seggetto qui ma è buono è buono sì e c'è eeeh come si chiama qui lì? ancora ancora così? eh no mi vedo come si chiama erica? come lo vedi sulle barche sotto un'acqua Eh sì, ma come si chiama? Ancora, mi sembra. Ancora? Sì, se non mi sbaglio, sì. Scrivetelo nei commenti. Scrivetelo oggi nei commenti se abbiamo detto giusto che questa è un'ancora. Eh sì. Scusate, ma non sappiamo. Stiamo migliorando, però... Stiamo migliorando, impariamo ancora l'italiano bene, facciamo i progressi, vogliamo crescere, noi vogliamo sviluppare il nostro modo di parlare, ma... Esprimersi. Facciamo ancora tanta fattica. Buon appetito. Buon appetito, Mare. Vanessa, buon appetito. Buon appetito. Domani, ragazzi, faremo un viaggio fino alla spiaggia. Sì, si fa un po' di strada, non è vicino, ma ce la faremo. Svegliare prestissimo, fare colazioni sulla spiaggia, giusto? E dopo, cosa fare? Annotare senza braccioli. E anche la Vanessa dovrà imparare a notare. Giusto? Giusto. Ed ecco, ragazzi, il mio piatto qua. Pappi, con te. Sembra che sia buono. Adesso è felice. Lo devo assaggiare? E anche il piatto di papì. La dentro ci sono le cozze. Erika, ma cosa stai facendo, amore? Sto mangiando. Cosa stai mangiando? Le cozze? E ti piacciono? La nostra Erika ha preso il gusto. E prima non voleva assaggiare. Neanche. Adesso non si ferma. Eccola. Li mangia come i semi. Mi piace, amoremo. Questo non si mangia. No, quello non si mangia, è duro. Invece quello che c'è dentro si mangia. E la conchiglia. Guarda che ti stai sportando nel vestito. Eh sì. Dai, metti la nel piatto. Ecco. Ragazzi è giunto il momento di salutarvi. Niente, si va adesso a dormire. Domani è un dolce. Si si mangia il dolce. E le nostre caramelle? Sono a casa le vostre caramelle. Perché? Ma come perché? Perché non avete preso le caramelle? Io anch'io voglio. Le caramelle? Hanno dimenticato le loro caramelle. Niente. Vi vogliamo salutare. Vi diciamo che domani si fa un nuovo video. E si va da un posto bellissimo. Vi faremo vedere tutto il percorso che lo dobbiamo fare. Perché è un percorso molto pericoloso ragazzi. Però non dimenticate di iscrivervi al nostro canale. E mettete tanti like. Bye. Fatelo. Ciao ciao. Ciao ciao.